La contraddizione nel rapporto tra azienda e, nel caso specifico, istituzioni culturali, il tema su cui è intervenuta Repower Italia all'ultima edizione del Salone CSR in Bocconi, è molto legato all'indipendenza dell'istituzione culturale in Italia, per come viene percepita, rispetto a un ruolo di un'azienda che a volte non viene colto nella sua capacità di creare valore aggiunto. Repower Italia prova a interpretare questo tema con degli esempi concreti, facendo vedere come le soluzioni che possono essere sviluppate da un'azienda e anche l'apertura tecnologica con dei ritorni concreti sulla sostenibilità, sugli aspetti culturali, sull'inclusività e quindi anche su tutto ciò che è CSR oggi, possono essere sviluppate in totale sinergia con le istituzioni culturali, tanti esempi, la mostra del cinema di Venezia con un set di soluzioni di mobilità sostenibile a cominciare da delle barche elettriche al servizio, la produzione di mostre sia di scambio culturale come quella sul design tra Italia e Svizzera al Museo del Design a Milano, oppure quella ospitata in triennale sulle compensazioni degli impianti di generazione, è un altro tema importante. Infine l'ambito culturale legato al teatro, title sponsorship, infrastrutturazione e condizioni di favore per chi usa un mezzo sostenibile per andare a fruire un contenuto culturale.